La vittoria di Campobasso ci ha consegnato un terzo posto sotto l'albero di Natale ma anche la possibilità di trascorrere queste vacanze, periodo festivo natalizio, in serenità. Nel fare il blindisi con la squadra però il presidente D'Agostino non ha nascosto che in quel bicchiere di champagne c'era un po' di amarezza. Amarezza dovuta al fatto che siamo comunque a 9 punti dal Bari, malgrado 13 risultati utili consecutivi, malgrado la squadra da dopo Monterosi è riuscita ad esprimere parte, dico ancora parte, del suo potenziale. Adesso però bisogna un attimino fermarsi perché questo periodo coincide con il mercato. Ora D'Agostino insiste nel dire voglio vincere il campionato, se dalle parole passerà i fatti vorrà dire che dal 2 gennaio arriveranno calciatori importanti. A quel punto nella chiarezza sarà bene che anche Braia così come aveva fatto ad inizio stagione dica la società mi ha soddisfatto possiamo magari fare il salto. Non sarà così, nessun dramma, anzi non possiamo che già ringraziare chi ha speso oltre 6 milioni di euro in un campionato di Lega Pro dove non c'è un euro di ristoro. Quindi nessuna polemica contro la società ma soltanto chiarezza perché che cosa mi sento di augurare a me stesso ma spero anche a voi in questo giorno di Natale. Dalla chiarezza noi dobbiamo provare a ricompattare quanto più è possibile l'ambiente. Vi confesso ormai a 50 anni ne ho viste tante, ho visto la serie A, ho avuto questa fortuna, ho visto quello stadio gremito in ogni ordine di posti. Oggi andare lì anche se al 75% della capienza, parlare di sold out che si arriva a 5 mila persone mi fa male davvero al cuore. Per me è come dare uno schiaffo alla storia. Ebbene nel giorno di Natale, se oggi il mondo si ferma, è perché noi ci crediamo tutti cristiani e cattolici, no? O festeggiamo il Natale per scambiarci panettoni e baci e abbracci. Il senso del Natale è questo. Quindi un cattolico, un cristiano festeggia il Natale, un musulmano non penso che festeggia il Natale. Che cosa voglio dire? Vedere nella mia città, nella mia provincia, ragazzi che tifano Juve, Inter e quant'altro, non si informano nemmeno di che cosa ha fatto l'Avellino, è un peccato mortale da confessare nel giorno di Natale. Allora l'augurio quale vuole essere, ci siamo capiti, insomma, di ritrovarci a giugno, indipendentemente dai risultati, perché qui Zeman ha ragione, i risultati sono figli della programmazione, uno, due, tre anni, noi arriveremo dove dovremo tornare. Il problema è arrivarci non con tifosi sempre occasionali, ma con tifosi veri. Buon Natale!